Sarà probabilmente definitivamente messo in atto il progetto che da tempo vede al centro il restyling dell'orto Pasqualello di Gela. Una storia che va avanti da oltre dieci anni con un finanziamento che pare al momento sia stato sbloccato, intanto poco tempo addietro l'orto è stato ripulito da un gruppo di volontari. Si vuole far diventare veramente concreto quell'idea, quel grande progetto che da anni tutti conosciamo. Recentemente ci sono state anche delle indicazioni, perplessità, ma anche suggerimenti che sono arrivati da molte associazioni di Gela per integrare un progetto che è nelle fasi finali. Sono state raccolte, l'ufficio tecnico ha preso degli spunti e quindi ci sarà per esempio molto più verde nella parte che riguarda la zona del parcheggio, un parco vero con vegetazione, il recupero dell'anfiteatro che c'è e il progetto che ormai è stato definito dovrebbe essere finanziato con delle somme che da circa dieci anni sono disponibili, quindi speriamo di farlo partire presto. Bella questa collaborazione tra associazioni, ufficio tecnico e istituzione perché ha permesso di migliorare il progetto e fra l'altro di creare degli spunti per un collegamento tra l'Orto Pasqualello e altre zone della città, cioè strade importanti della nostra città come la Bretella Borsellino, con una progettazione che parte ora ma potrebbe svilupparsi per anni. Quindi tutto un costone che arriva all'Orto Pasqualello che viene sfruttato. I lavori di fatto sono già partiti e tenuto conto che anche con la forestale, che per adesso sta lavorando da due giorni al Bosco Littorio, ma potrebbe darci una mano nell'ambito della piantumazione di tutta la zona, diciamo che i lavori sono già partiti. Cosa significa il recupero di un polmone verde nel centro storico della città? Significa che per adesso quella zona è solo un problema, una zona poco sfruttata, anzi non è sfruttata per niente, rischio di ingenti, problemi di carattere igienico, invece può diventare una zona di collegamento fra il lungomare e il centro storico passando per la villa, per una valorizzazione di una delle zone più belle di Gela. Tanto si è parlato, tanto tutti ne abbiamo parlato, adesso è arrivato il momento di cominciare a definire un progetto, mettere in campo la gara per realizzarlo, ma soprattutto curare tutta questa zona. Noi siamo già partiti in questa direzione e siamo sicuri che avremo la collaborazione dell'Associazione dei Cittadini e quindi anche degli imprenditori locali.